Ciao ragazzi, in questo video daremo un'occhiata ad alcuni dei quesiti di matematica che sono stati assegnati nel test di ammissione a biologia dell'anno 2011. Questa tipologia di quesiti è molto simile anche a quelli che sono comparsi nei test per l'ammissione a biotecnologie e quindi costituiscono un utile ripasso anche per chi di voi decidesse di intraprendere questa seconda scelta. Cominciamo con il quesito 9 che diceva sia c minore di 0. Allora l'insieme di soluzioni s della disequazione cx quadro meno x maggiore di 0 è e avevamo queste 5 opzioni di risposta. Allora qui la cosa più semplice da fare è risolvere direttamente la disequazione. Vedete che si tratta di un oggetto di secondo grado quindi qualcosa che se viene rappresentato sul piano cartesiano corrisponde a una parabola e siamo anche sicuri che si tratta di una parabola con la concavità verso il basso perché vedete il coefficiente che moltiplica il termine di secondo grado è negativo. Il che significa se volessimo fare una rappresentazione molto approssimativa della situazione che se questo è il nostro asse x è un po' come se questa funzione fosse qualcosa del genere quindi un parabolino con la concavità verso il basso. Uno smile triste se volete. Ci resta da capire dove si annulla questo oggetto dopodiché il gioco sostanzialmente è fatto. Quindi da una parte uno deve andare a risolvere cx quadro meno x uguale a 0. Questa chiaramente si risolve facilmente se uno raccoglie x perché allora vedete si ottiene cx meno 1 il tutto uguale a 0 e da qui sono immediate le due soluzioni perché uno applica la legge dell'annullamento del prodotto e quindi o x uguale a 0 oppure da qui segue che x uguale a 1 su c. A questo punto dobbiamo capire quale tra queste due intersezioni è 0 e quale tra queste due intersezioni è 1 su c. Però notando che c è negativo è chiaro che 1 su c è negativo anche lui e quindi deve trovarsi prima di 0. Dunque questa qui sarà 1 su c e questa qui invece sarà l'intersezione in 0. A questo punto chiedersi dove cx quadro meno x è maggiore di 0 è come chiedersi dove la parabola che rappresenta questa funzione qui sta al di sopra dell'asse delle x e vedete che sta al di sopra dell'asse x in questa zona qui quindi nella zona compresa in termini di x tra 1 su c e 0 e quindi la risposta corretta ragazzi era la b. Passiamo adesso al quesito 10 che ci chiedeva quale delle seguenti disuguaglianze è vera per ogni numero d maggiore di meno 2 e diverso da 0 e avevamo queste 5 opzioni possibili. Allora qui ci sono diverse strategie che uno può applicare per trovare qual è quella giusta ma io ragionerei in questo modo qui. Allora intanto uno nota subito che non può trattarsi di una disequazione di primo grado perché le disequazioni di primo grado danno come risultato x maggiore o minore di qualcosa e quindi non c'è nessuna possibilità che salti fuori diverso da 0 da una disequazione di quel tipo lì e quindi uno scartava subito tutte quelle di primo grado perché non è possibile che generino risultati di questo tipo. A questo punto non resta che decidere tra la A e la E. Per esempio proviamo a risolvere la A ragazzi. Uno cosa faceva? Di solito per comodità si porta tutto da una parte e quindi si ottiene d3 più 2 di quadro maggiore di 0. Questa si può risolvere facilmente raccogliendo d quadro e quindi abbiamo d quadro che moltiplica d più 2 maggiore di 0. E come si risolve questa ragazzi? Vedete che se uno si fa la linea dei segni del d quadro scopre che d quadro è un fattore sempre positivo e quindi una riga dei segni di tutti più. Dobbiamo però togliere proprio 0 perché comunque d quadro si annulla in 0. Quindi diciamo pallina vuota in 0. Invece il fattore d più 2 è un fattore di primo grado e quindi un oggetto che è positivo per d maggiore di meno 2. Ci siamo no? E negativo invece prima. A questo punto uno combinando i segni dei due fattori scopre che il segno complessivo ha questo andamento qui. Volevamo capire dove l'oggetto era maggiore di 0 e quindi la zona che ci va bene è questa qui. E vedete che è proprio la zona corrispondente a d maggiore di meno 2 però diverso da 0 e quindi la risposta giusta effettivamente è la A. Vediamo adesso il quesito 14 che ci chiedeva siano f di x uguale a radice di x e g di x uguale a 2 meno x. Per quale valore di x il grafico della f sta sotto il grafico della g? E chiaramente qui per rispondere uno deve avere presente come è fatto il grafico di radice di x e come è fatto il grafico di 2 meno x. Cominciamo ad occuparci del grafico della radice. Allora se uno non ha idea di come farlo, questa è una funzione diciamo molto semplice da disegnare ma se uno non avesse idea può procedere per punti. Per esempio quanto vale radice di x in 0? Vale radice di 0 quindi 0. Quanto vale radice di x in 1? Vale radice di 1 quindi 1. Quanto vale radice di x in non lo so 4, andiamo in x uguale a 4, radice di 4 fa 2 quindi deve passare per di qua e quindi vedete che anche senza sapere come si disegna uno sostituendo un po' di punti capisce che radice di x deve essere qualcosa di questo tipo. Adesso ho fatto il disegno molto in fretta però avete capito l'idea. Invece per quanto riguarda la g di x vedete che si tratta di una retta, questa è veramente facilissima da disegnare ma di nuovo se aveste dei dubbi potete procedere per punti. Comunque notate che il q cioè il termine noto è 2 quindi la retta deve passare per di qua e poi deve scendere con pendenza meno 1 il che significa che ogni volta che spudolatamente vi spostate a destra di 1 poi dovete scendere di 1 e quindi il suo grafico è qualcosa del genere. Capito questo, dov'è che il grafico della f cioè della gialla sta sotto il grafico della verde. Vedete che anche facendo proprio un disegnino qualitativo uno si accorge che le due si incrociano in x uguale ad 1, quindi questo è x uguale ad 1 e la gialla sta sotto la verde prima di 1 e chiaramente per x maggiori di 0 visto che la funzione radice di x è definita solo per x maggiore uguale di 0 e quindi ragazzi la risposta corretta in questo caso era la b. Vediamo adesso il quesito 7 ragazzi che ci proponeva questo disegno e ci diceva sapendo che le rette r ed s sono perpendicolari l'equazione di s è e ci proponeva queste alternative. Allora come facciamo a trovare l'equazione di s? Intanto sappiamo che è perpendicolare ad r il che significa che il coefficiente angolare di s è uguale a meno 1 diviso il coefficiente angolare di r. Questo se vi ricordate corrisponde alla condizione di perpendicolarità tra le due rette. A questo punto come facciamo a calcolare il coefficiente angolare della retta r? Il coefficiente angolare della retta si può calcolare se sono noti due punti per cui passa la retta e in questo caso noi abbiamo questo punto qui e questo punto qui e se vi ricordate per fare il coefficiente angolare basta fare la y del primo punto meno la y del secondo punto quindi nel nostro caso 2 meno 0 tutto questo diviso la x del primo punto che per noi è 0 meno la x del secondo punto che è 3. E a questo punto se facciamo i conti ragazzi qui che cosa ci viene? Meno 1 fratto qui vedete che salta fuori meno 2 terzi da cui si conclude che il coefficiente angolare della retta s che stiamo cercando deve essere 3 mezzi. Ciò significa che l'equazione della retta deve essere del tipo y uguale 3 mezzi x più un certo termine noto q e questo termine noto lo possiamo trovare vedete sapendo che la retta s passa anche lei per il punto di coordinate 3 0 e quindi andando a sostituire le coordinate 3 0 all'interno dell'equazione della retta uno si trova agevolmente quanto deve valere il termine noto q a questo punto può scrivere l'equazione della retta in forma esplicita e una volta che da denominatore comune 2 e porta tutto dalla stessa parte dell'uguale conclude subito che la retta cercata deve avere l'equazione 3 x meno 2 y meno 9 uguale a 0 e andando a caccia di questa qui tra le opzioni di disposta uno conclude che quella giusta è la e. E con questo ragazzi abbiamo concluso la risoluzione dei quattro quesiti che erano forse i più difficili del test assegnato nel 2011 per quanto riguarda la parte di matematica vi lascio comunque nella descrizione il link al test completo potete darci un'occhiata e se aveste delle domande su qualche quesito sentitevi libere di farmene nei commenti qui sotto e vi risponderò il prima possibile molto volentieri qui vi ho riportato schematicamente quello che serviva a sapere per risolvere questi quattro quesiti se aveste qualche dubbio magari non vi ricordate bene la teoria relativa alla retta le rette perpendicolari oppure magari la parabola date un'occhiata all'interno del canale perché ho delle apposite playlist dedicate a questi argomenti prima di salutarvi vi riporto qui link ad altri video che ho realizzato relativamente a test di ammissione di altre facoltà e come sempre se avete trovato utile questa video lezione vi è piaciuta ricordatevi di mettere mi piace e date un occhio all'interno del canale dove troverete molti altri video a presto